Love Canosa come sempre in diretta, come sempre parliamo di sport, oggi sono davvero in una sede storica, una sede bellissima, piena di coppe, quella dell'Atletica Pro Canosa e sono in compagnia del presidente Giuseppe Tomaselli e del vicepresidente Cosimo Caporale. Sono in compagnia di un gruppo di atleti che domenica, dopo domenica, girano per le strade della Puglia e raccogliendo successi che noi scriviamo sulle nostre pagine. Grazie perché ci fai da casta di risonanza. Ma certo, ma certo. Dobbiamo dare visibilità a tutti. Io questa sera sono qui apposta perché, grazie a Dio, Giuseppe Tomaselli lo conosco da una vita e so che a lui è sempre piaciuta la corsa, sin da piccolo, quando eravamo al liceo eri uno dei pochissimi che eri sulla strada a correre mentre noi giocavamo a pallone. E' un amore da bambino, da sempre, che spero di trasmettere a tutti quanti gli amici che incontro. Credo che guardando questo bel gruppo di persone, di atleti... Ci stiamo riuscendo, ci stiamo riuscendo. E poi abbiamo il vicepresidente Cosimo Caporale. Con te dopo parleremo un attimino delle gare e di ciò che è il futuro dell'atletica pro canosa. Giuseppe, allora, siamo qui in presenza di questo gruppo di ragazzi che ti sta dando tante, tante, tante soddisfazioni. Sì, sì, quest'anno veramente sono stati tutti bravissimi. Abbiamo iniziato con la vittoria nel campionato pugliese di cross delle signore, delle ragazze. Poi abbiamo avuto un sacco di risultati in pista con Grazia di Corato che ha vinto il campionato di pugliesi. Qualche domenica fa siamo andati a San Nicandro e abbiamo vinto titoli pugliesi sulla mezza maratona. E adesso ci lanciamo perché domenica prossima a Trani proveremo a vincere il titolo italiano a squadra femminile. Che sarebbe un risultato eccezionale. La tua cura è davvero perfetta, soprattutto anche per coloro che da poco... Io so che c'è Antonio, Antonio Di Nunno, dove è Antonio? Eccolo qua, ecco. Ti puoi dire che Antonio ti ha dato una grande soddisfazione recentemente. Ha cominciato da poco, ma insomma, corre. Domeniche fa è riuscito ad arrivare secondo in una gara di Cori e Pugliese, che è una prestazione eccezionale. Di tutta la squadra, io ritengo. Di tutta la squadra, ma soprattutto di un ragazzo che è iniziato da pochissime, che ha delle grandissime potenzialità. Se fosse più ordinato nella corsa, quello imparerà col tempo. Bisogna ordinare questa corsa, Antonio. Sì, sì. E questo è possibile. Mi dici che tipi di allenamento fai, Antonio? Mi alleno cinque volte alla settimana, tutti i lunghi, distanze ripetute. Sono allenamenti molto pesanti. Ma chi è che detta il programma degli allenamenti? Il presidente. Ah, il presidente. Tomaselli, quindi tu sei anche colui che programma tutto ad ognuno di loro. Il tempo perso faccio l'allenatore di qualcuno di questi ragazzi, non di tutti, di qualcuno. Di qualcuno. Ottenendo grandi risultati, perché se lavori così come hai lavorato su Antonio... Sì, sì. Diciamo che i miei attriti mi danno grandi soddisfazioni. Sono quelli che seguono il modulo per disse con la programmazione e ottengono grandi risultati. Ascolta, ti devo fare una domanda tecnica, tu che sei un grande esperto. Adesso mi metti in garazzo. Dicono in tanti, lo stretching, lo stretching, gli scaldamenti, è utile prima o dopo la gara? Io sono dei pareri che è utile dopo la gara e mai prima. Mai prima, questo è importante. Questa è una mia convinzione da sempre, quello che mi hanno insegnato. Bisogna saperlo fare. E poi bisogna saperlo fare. E' un decano e quindi... Come si chiamano? Michele Amorese. Ecco, Michele Amorese. Io so e l'ho visto, io ho visto, ricordo da piccolo che lei già correva insieme a Tomaseli, ma è ancora qui a dividere le gioie con questi ragazzi? No, sono soltanto socio e consigliere, ho lasciato l'attività agonistica. Non è da poco, eh? Problemi fisici, di cirocchia, diciamo. Ho capito, ma è qui a dividere comunque le gioie delle ragazze quando tornano dalle gare. Sì, questo qua è lo spirito di questa associazione. Io dico sempre... Siamo riuniti sempre tutti i gruppi perché le età sono abbastanza diverse e lo spirito è quello comunque. Certo. Noi rappresentiamo tre generazioni, dai nonni fino ai nipoti. E questa è la forza di questa associazione. 110 soci dai 73-74 fino ai 15 anni. C'è una ragazzina di 15 anni. Di 15 anni. Questa è la forza di questa associazione. E adesso Giuseppe c'è una promessa che ci siamo fatti, così velatamente una volta. Dobbiamo far crescere anche i bambini, dobbiamo mettercelo a tutta per far correre anche i bambini più piccoli. Sì, sì, sì. Il progetto dei prossimi tre anni sarà quello di creare una sezione per i più piccoli. Noi abbiamo già iniziato l'anno scorso con una gara per i più piccoli. Quest'anno durante le canosie abbiamo di nuovo organizzato una gara per i più piccoli. Ma l'anno prossimo cercheremo di fare proprio un centro per bambini, per avvicinare i bambini allo sport. Quest'anno siamo riusciti ad ottenere l'agibilità della pista di atletica allo stadio, che quindi potremmo frequentarla. E questo è un grande aiuto. Perché i bambini hanno bisogno di un luogo sicuro, sia per loro sia per i genitori, che ce li affidano. Certo. E poi io sono convinto che tu ci metterai tanto di tuo anche sulla crescita dei bambini. Allora, dammi qualche minuto perché devo presentare, seguimi un attimino, tutti i nostri componenti. Perché è giusto che sia. Tu, come ti chiami? Francesco Pastore. Mi dici la categoria? SM35. SM, ecco, Francesco Pastore. Cosimo Caporale lo conosciamo già. Il signor Amorese l'abbiamo già conosciuto. Lei invece è una delle tante donne, perché non è l'unica. Sì, sono Pomparosa, sono un consigliere e anche io mi diletto. Sulla strada. Con ottimi risultati perché io scrivo. Pochi, pochi devo dire. Pochi, sono obiettiva. Qui abbiamo un futuro campione delle aquile azzurre. Sulla consorte che pensa di essere il migliore. Lei è la consorte, ecco. Tu come ti chiami? Pasquale Parisi. Ecco, la categoria? SM. Io dovevo dire che è una futura promessa del runner qui a Canosa, quindi metticela tu. Mi fai fare per te. Cercherò di fare del mio meglio. Bravo. Anche perché poi il Presidente ci ha trasmesso la competizione tra di noi, però in modo passionale, amorevole, sano e divertente. Quindi è fondamentale questo. Tu invece? Io mi chiamo Antonio Del Vento e gareggio nella categoria SM35. Antonio Del Vento, Presidente, le dico subito, ieri durante un'intervista che stavo facendo a Canosa sul campo San Sabino si stava regolarmente allenando. Quindi questa è una buona notizia. Ligio Aldovere, questo è giusto che sia te. E lui invece, io lo conosco, io non voleva, non voleva stare qui con noi in diretta, però io lo volevo per forza. Perché lui, come me, insomma, abbiamo una stessa... Veterani. Siamo veterani. Io da una parte e tu dall'altra parte. Perché lui correva in bicicletta. Poi ha lasciato la bicicletta scontentando un po' i tuoi appassionati di bicicletta. Ti sei messo sulla strada. Sono rimasti sempre amici, ancora i vecchi compagni di... Il nome, mi devi dire... Vincenzo Paolicelli. E chi non lo conosce, Vincenzo Paolicelli, che corre, corre, corre tanto. La tua categoria? M60. Ma non sembrano, 60 anni. Se tu hai visto, ho fatto anche la straffetta con i ragazzi, non mi do indietro. Bravissimo. Finché posso, vado. Bravissimo, bravissimo. Ah, qui questo non lo conosco, questo non lo conosco per niente, insomma. E' arrivato, ma sapevo che stavo a lavorare invece, ero venuto perché ci voleva essere. Questo, insomma, è un piccolo campioncino, mi posso permettere di... È piccolissimo. Piccolissimo. Si è dato tanto da fare, insomma, ci ha portato a tanti risultati. Lui, e mi sembra che si chiama Antonio... Antonio Di Giulio. Antonio Di Giulio. Antonio Di Giulio, uno dei protagonisti, diciamo, principe. Ma che possa essere di traino agli altri. Deve essere di traino agli altri. Va bene. Antonio, noi ci siamo già sentiti tante volte, con Antonio Di Nuno ci siamo già sentiti. E poi abbiamo questo signore qui, questo signore che ho intervistato, che si divide un attimino fra la bici e il runner. Però, insomma, ottiene grandi risultati da una parte e dall'altra. So anche come ha iniziato, Giuseppe. Ha iniziato, così per caso, nella sua azienda correndo. Aveva dei competitor, competitor, con la C maiuscola, e alla fine ha vinto lui. Insomma, è stata una cosa straordinaria. Stiamo parlando di... Simone Gensano. Ecco, il televisore si vede bene, vero? Perfetto. Perché lui è stato pure fortunato, va bene. E lui, un altro protagonista principale, Michele Paradiso. Raccontami questa tua maratona a Berlino. Insomma, non abbiamo scritto, non abbiamo parlato. Ma so che hai ottenuto un grande risultato. Sì, sì, sono soddisfatto della prestazione. Sono appena arrivato da Piacenza, quindi ecco perché non c'è stato modo di incontrarci. No, sono stato molto contento sulla prestazione a Berlino. Nonostante tutto il tempo non era clemente, tra vento e pioggia. Però alla fine, per dieci secondi, non ho superato l'obiettivo vero, che era quello di andare sotto le tre ore. Comunque ci siamo. C'è la moglie che ti fa per te, vero? No, non è mia moglie. Volevo chiederti una cosa, so che sei grande amico di Antonio, di Antonio Di Giulio, sei poi sotto le cure di Giuseppe Tomaselli. Mi devi dire, prima di questa maratona, quali sono stati... E questo anche... Eh no, stavo aspettando il mio ultimo ospite. No, volevo sapere, ma quali sono stati i consigli che hai poi attuato in gara? Quelli che ti ha dato Antonio o quelli che ti ha dato Giuseppe? Questo è molto importante, eh? Quelli che ha dato Giuseppe. Sicuramente. Antonio non mi ha detto niente, mi ha detto qualcosa, non lo so boh. O niente, proprio niente. No, no, ho seguito la lettera, quello che era il programma, purtroppo sono stato un po' tradito dalla tecnologia, ecco perché mi trovo quei dieci secondi. No, è sempre la fanfara che parte, va bene, questo in onore tuo e della tua gara. E niente, comunque sono arrivato alla cosa che oltre il tempo che ho stabilito su questa maratona sono le condizioni in cui ci si arriva alla fine. Sono arrivato molto riposato, pronto, non dico per farne subito un'altra, ma quasi, quindi questo è... E' un momento di ottima forma voi, tra l'altro. Grazie alla moglie comunque. Grazie alla moglie comunque. Un'altra delizia, diciamo, una sera ero su, sempre Giuseppe, su al San Sabino e ho visto che stavano allenandosi la coppia più bella del mondo, che era Michele Paradiso e Antonio Di Giulio. E' passata una signora, avete finito di correre, ho detto ma chi è questa signora? Era la moglie che diceva, scusa, ritorna a casa perché è tardi, giusto? Adesso fate, datemi una piccola parentesi a questo signore qui, è il signore, dopo Giuseppe Tomasili, più dotto della Tredica, perché io quando incontro... Un grande, dovrei dire. No, anche più dotto perché so che lei si dedica non solo alla Tredica ma anche a tanto altro, complimenti per la trasmissione su Rete 4. Grazie, grazie. Ha raccontato uno dei monumenti più belli della nostra nazione. Sì, Castel del Monte, io ho una passione per Castel del Monte perché ci ho lavorato 12 anni ed è entrato un po' nella passione, è seguire le notizie, ciò che si sa del monumento e scoprire ciò che non si sa anche. E ci sei riuscito bene. La cosa bella di te è col nome e cognome, ricordiamo. Giuseppe Channamea. E chi non ti conosce, insomma, la cosa più bella tua quando mi mandano i book fotografici delle gare è vederti te e tua moglie, soprattutto, Giuseppe, sorridenti. Sorridenti di essere lì, divertirsi, insomma, per te spirito giusto per affrontare una gara è quello di divertirsi soprattutto. Io, nonostante che sia SM70, sono sempre presente alla partenza. Eh, ma anche all'arrivo, eh. Anche all'arrivo, giustamente. Ma l'arrivo, la cosa che non si spiega a chi corre, che molta gente non sa che cosa significa l'arrivo. L'arrivo è il momento di liberazione. Esatto. E con l'adrenalina che ti prende durante la corsa. Poi si arriva alla fine. Ah, sì, ho finito. Ho finito, finalmente. La cosa più bella che io sottolineo sempre durante le gare, quando ho presentato, ho avuto la fortuna di presentare qualche gara di runner, è vedere gli atleti, forse l'unico sport, nemmeno nel ciclismo, che arrivano mano nella mano, divertendosi davvero. E questo è davvero... Adesso voglio Cosimo, vieni Cosimo, Cosimo Caporale, il vicepresidente dell'Atletica Procanosa. Insomma, noi parliamo tanto, 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 io scrivo tanto di corsa su strada, di runner, di gente che si diverte. Vedo che vi divertite davvero. Anche Vincenzo Sciannamea, va bene. No, carissimo. Sei Vincenzo Sciannamea? Sì, interista. Sì, interista. Ecco, va bene. Ecco, la sua categoria è interista. Va bene, d'accordo. Grazie per avermelo ricordato. Ecco perché ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua perché è interista. Eh, va bene. No, dicevo a Canosa una grande, una grandissima, un grandissimo movimento. Ecco, io credo però, è una bella realtà, e credo comunque che finalmente a Canosa forse stia maturando il momento di riunire, di una riunione, di un grande gruppo che possa girare la Puglia portando alto il nome di Canosa. Ecco, impegniamoci un attimino a rendere più uniforme, più unita questo gruppo. Infatti, sempre, diciamo, sempre disponibile a questa apertura a tutti. Mai ci siamo tirati indietro. Ecco. Io. Siamo ancora, ancora oggi, tutti qua, in tutto il gruppo è disponibile a questa grande, diciamo, unione. Come vieni, Giuseppe? E infatti io uso questo gancio per ricordare quello che Giuseppe disse prima della gara dell'anno scorso, insomma, uno dei tuoi grandi obiettivi, oltre che raccogliere soddisfazioni in giro per la Puglia insieme ai tuoi atleti, è quella di un giorno vedere tutti insieme sotto un'unica bandiera correre per le città della Puglia. Perché non ha senso, secondo me, questa divisione all'interno del Paese. Noi siamo aperti, perché secondo me dobbiamo essere una unica grande famiglia. E siamo sempre disponibili, da anni, continuiamo a dirlo, accogliamo tutti. Sì, e siamo disposti a fare un passo indietro anche come dirigente per poter rionificare lo sport a Canusio. Questa è una esistenza importante. Sì. Perché è difficile trovare gente che faccia un passo indietro, Giuseppe. No, beh, è facile. Guarda, non più tardi di ieri parlavo proprio con il presidente della Canusio Unbike per fare qualcosa insieme, anche una polisportiva. Ci stavamo confrontando con un grande presidente, Vito Pagano, per provare a fare una cosa insieme. Speriamo, speriamo, perché il mio sogno è quello proprio di fare una polisportiva. Vieni, vieni, io voglio stare con quelli che sono il nostro sogno, il sogno di tutti. Allora, siamo stati qui in compagnia degli amici dell'Atletica Pro Canosa, che io chiamo Aquila Azzurri. Ormai è una cosa che non mi esce più dalla testa. Abbiamo visto sfrecciare qui a Canosa di Puglia durante le Canosie, l'ho visto davvero delle grandi prove. Vincenzo Scionamea, sei l'unico che non mi ha detto la categoria vera. SM55, non è stata l'età. No, 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 vieni qua, vieni qua. Grazie, siamo quasi uguali, non lo? Io penso di sì. E questo è lo spirito, io vi voglio vicino a me, perché questo è lo spirito dell'Atletica Pro Canosa. Divertirsi, divertirsi e poi ancora divertirsi, perché solo così si può affrontare simili imprese. Sono un esempio nel sociale, noi sono tre anni che ogni anno dedichiamo un'attività al sociale, perché è anche questo, lo spirito è anche questo, vivere nella città e cercare di dare un esempio. Allora, la prossima gara a Trani, ho capito. Prossima gara domani a Molfetta, dove andranno tutti. Campionati nazionali a Trani il 13 ottobre. E quindi andranno tutti quanti, vero? Sono invitato, sono invitato, va bene, d'accordo. Io sarò con voi perché voglio veramente guardarvi, abbiamo lasciato la fanfara fuori, che sta continuando a suonare, però vieni qui perché dobbiamo chiudere questa bella mezz'ora passata insieme su Elob Canosa con l'Atletica Pro Canosa. Ci siamo davvero in tanti, abbiamo davvero tutti i componenti, manca qualcuno, però insomma. Ne mancano parecchi. Ne mancano parecchi. Sicuramente un decimo. Un decimo, va bene. Ragazzi, facciamoci un applauso, dai. Perfetto. E con questo applauso io voglio salutare gli amici che ci stanno guardando da casa, che sono davvero tantissimi e che domenica dopo domenica continueranno a tifare questi ragazzi con le canotte azzurre, le aquile azzurre. Forza Atletica Pro Canosa, alla prossima.